Sì, diciamo che è mancato un po' battuta e difesa, principalmente quello. Poi comunque Conejano è una signora squadra, molte volte i centrali sono sopra il muro, anzi quasi sempre, quindi è difficile comunque anche prendere alcune misure perché hanno angoli molto difficili da prendere, quindi brave loro, brave loro. Sono stata male questa settimana, ho preso la febbre, quindi non stavo in formissima, quindi mi auguro di stare meglio un nuovo anno.